Sono le 14 e una pattuglia dei carabinieri percorre Calata Ponte di Casanova a due passi da Piazza Nazionale. Si cammina a Passo Duomo, c'è traffico, ma questo non è dovuto solo al quotidiano tram tram metropolitano. C'è della folla vicina ad uno scuolabus dell'istituto scolastico delle meraviglie nel quartiere Arenaccia e delle persone chiedono aiuto ai carabinieri. La pattuglia è composta da un maresciallo e un carabinieri si avvicina e immediatamente comprende cosa stesse accadendo. Una bambina di 9 anni aveva mangiato una caramella, una di quelle dure, e stava soffocando. L'autista aveva fermato il pulmino e la piccola era stata portata in strada. I presenti autista, passante e maestra stanno tentando, ma in vano, delle manovre disostruttive. Il maresciallo approva anche lui la manovra di Heimlich, ma il volto della piscina è di colore bluastro e dalla bocca esce del sangue. Non c'è altra alternativa, i militari prendono la bimba e con la maestra si corre a bordo della gazzella verso il pronto soccorso più vicino. L'ospedale Santissima Annunziata dista un paio di chilometri, ma nonostante le serie di lampeggianti accesi, quei pochi minuti sembrano un'eternità. Se arriva pronto soccorso i medici salvano la bambina, intanto arriva il padre della piccola che ringrazia i carabinieri e i medici. Per i sanitari l'intervento dei militari è stato decisivo. Un paio di minuti in più avremo parlato di un'altra storia. La bimba, dopo le prime cure, è stata affidata al suo papà. Sta bene, ma dovrà comunque effettuare altri accertamenti. Siamo stati fermati da un gruppo di cittadini intenti a soccorrere una bambina. Come siamo arrivati la scena era a dir poco tragica. La bambina stava soffocando dopo aver ingerito una caramella che era andata a ostruirgli le vie respiratorie. Era diventata pallidissima, aveva iniziato a rigurgitare e perdeva sangue dalla bocca. Dopo che ci avevano detto che l'ambulanza già era stata attivata e che tardava ad arrivare e dopo che le manovre di primo soccorso erano state inutili, non ci rimaneva altra scelta che portare la bambina con noi in macchina e in emergenza con le sirene accese e l'abbiamo portata al punto soccorso più vicino, all'ospedale dell'Annunziata, affidata ai medici che hanno il cui tempestivo intervento è riuscito a salvarle la vita. Una fortissima emozione, la bambina continuava a urlare non voglio morire, non voglio morire e quindi un'esperienza molto toccante. I genitori hanno ringraziato, non sapevano come ringraziare ed è stato uno shock veramente per tutti, però che si è concluso bene. Sono stati momenti di alta tensione, visto che ero consapevole del fatto che c'era una grossa responsabilità. Non appena siamo arrivati al pronto soccorso mi sono reso conto di ciò che era successo, mi sono reso conto di aver contribuito a fare una bella cosa ed è questo che mi è rimasto di ciò che è successo ieri. Non c'è stata gratificazione più bella se non quella di vedere la bambina che abbracciasse il proprio papà. Solo a parlare ora mi emoziono perché è la cosa più bella del nostro mestiere. Quello di dare un proprio contributo concreto è di farlo come persona, in primis, come carabiniere.